Lotto 327 Manabu Mabe, senza titolo 1962, una tempera su carta, 47,5 x 65,5, opera firmata e datata in basso a destra. Viene messa in gara a 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 euro e 1800 per offerta ricevuta al banco. 1800 euro per la prima, per la seconda, se non vedo altre offerte aggiudico a 1800 euro per offerta ricevuta al banco, 1, 2, 3.